Il consigliere regionale del PD Pier Paolo Petrucci chiede le dimissioni dell'assessore regionale al bilancio Mauro Quaieri per la pessima gestione a suo giudizio della faccenda delle cartelle esattoriali per il bollo auto recapitate terremotati per gli anni 2009 e 2010. 40.000 cartelle arrivate agli aquilani, 33.000 riguardano il comune dell'Aquila. Domani scadono i termini per il pagamento delle cartelle esattoriali, non c'è stata nessuna comunicazione, dice Petrucci, da parte della regione generando molta confusione le persone non sanno cosa fare. Con Petrucci c'era anche il consigliere comunale Stefano Palumbo. Il 23 marzo sono arrivate le cartelle, poi le loro proposte. Fare un emendamento coperto anche dalle risorse finanziarie, 12.000 di euro circa, con una moratoria nazionale. L'altra proposta, quella di una legge che lasciasse solo il 40% della quota capitale, decurtando le spese legali e gli interessi di mora. Quaieri sostanzialmente ha detto che la legge si farà, ma ci sono dei tempi e quindi gli aquilani pagheranno domani e poi non sanno cosa fare. Ci sarà un caos, insomma, secondo il Partito Democratico. Avevano annunciato che sarebbe arrivata una legge in commissione e poi in consiglio regionale. Di fatto il consiglio regionale, qualora dovessero approvare la legge in commissione, non ci sarà prima del 30, di fatto i termini sono scaduti. Chi chiarisce agli aquilani che devono pagare o se non devono pagare e chi chiarisce se quelli che in questi due mesi hanno pagato gli saranno restituite le somme. Per queste e per tante altre motivazioni, che capite bene, dalla mancanza di comunicazione vera e istituzionale, dall'aver lasciato gli aquilani nell'incertezza totale, io richiedo formalmente le dimissioni dell'assessore Quaglieri, ma non le chiedo di Marsilio perché Marsilio sarà sfidato nelle elezioni regionali che ci saranno nella primavera prossima e lo sfideremo sul campo. Ma l'assessore Quaglieri per dignità e per l'etica di responsabilità deve rimettere il proprio incarico. Palumbo ha detto pure che è mancata completamente la comunicazione, come nella vicenda degli hacker della ASL1 sia da parte del Comune che della Regione, un provvedimento tardivo la legge per lui. Il valore aggiunto del governo Meloni sul territorio, secondo Palumbo, non si è visto, vedi facciende come il superbonus autonomia differenziato, dimensionamento scolastico.